San Faustino, lì a quel bar dove lì aveva, ecco, e dopo io cerchia loro, ma era un bel grasso proprio, grasso, tanta carne vuoi dire, e l'aveva messa a lui il ghiaccio, e dopo me l'aveva detto, te lo metti sotto la neve, e infatti aveva messo una settimana sotto la neve. Ed era buono il gatto? Sì, era proprio buono, e era come mangiare, mi che mangia i conelli, e sapevi. Di conelli? Sì, di conelli. Ecco il mio. Io ho mangiato un pezzettino, e l'ho mangiato un pezzettino, e poi dopo da solo assaggiarlo. Conelli. 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 Eh, basta, hai detto, conelli. Non è che ci vuole. Ho mangiato il conelli, dico a tu nipote. No, ma questo lo mando alla Anna, per il gatto. Finchia, bastardo. Di ciao alla Anna, il gatto era buono. Eh sì? Ciao Anna, il gatto era buonissimo. Coniglio, chi piace il coniglio, e anche la lepre era buona.